Corriere di Novara e Codiviella Sono venduti, diciamo, pariteticamente, la metà su Varallo e la metà su Biellese Ci hanno aiutato molto le Proloco, i sindaci Volevo ringraziare, qui non c'è, ho dimenticato di chiamarlo, questa è una mia pecca Non posso nominarvi tutti perché siete stati tutti bravi Però c'è la Isabella Regis che mi ha venduto, non so io, una marea di biglietti E quindi mi spiace di lui che non ho pensato di chiamarla Comunque me ne ha venduti tantissimi, poi anche Agile Lei diciamo che è stata quella che da sola ne ha venduti, non so io, su 60 blocchetti, boh, insomma, una roba, ecco E quindi la ringrazio, così Molti sindaci di Varallo si sono prestati, di tutti della Giugna del Mercendese E quindi questo è quanto Questo è il quinto anno che faccio la liturgia io E' andata sempre bene Io fai un applauso a Maria Marco A Maria Marco A Maria Marco A Maria Marco